Il fatto dottore è che io quando dormo russo e quando russo sogno e sogno uno che dorme e che russa, ma russa forte, russa più forte di me, ma anche lui sogna e che sogna, sogna uno che dorme e che russa più forte, ma lui russa più forte di tutti, russa forte, russa più forte di me, più forte di lui, lui russa e fa un casino e tutto un gran russale e ci sveglia tutti, sai, è un cervello di dormire, mi sveglio io, si sveglia lui e si sveglia quell'altro e russa forte e così per riaddormentare mi ci vogliono tre tavolo, uno per me, uno per lui e uno per quell'altro, come si fa, eh, scusa un attimo.